da tanti anni devo dire che è difficile cogliere tutti gli aspetti in cui si è declinata la non violenza e lui lo fa, poi lo spiegherà meglio lui, ma lo fa a partire da un discorso storico, cioè a partire dalla non violenza, dalle tracce della non violenza nella storia umana, fino a arrivare ai giorni nostri, fino a tentare di toccare tutti gli aspetti in cui si è declinata la non violenza. Quindi io semplicemente volevo fare questa brevissima introduzione e dargli la parola perché appunto so che lui poi vuole sottolineare alcuni degli aspetti che per lui sono più interessanti di questo libro e spiegarcelo meglio, per cui grazie. Grazie, grazie. Se potete, adesso distribuire il libro a tutti quelli che possono, non sono tutti ma insomma quasi tutti, lo usate finché lo parli, vi mostro le cose, a partire dalle foto che ci sono, l'indice eccetera, poi alla fine della conferenza se volete lo tenete e date qua, se no lo restituite, se non lo restituite e non date neanche l'ovulo c'è il settimo girone dell'inferno che è preparato sempre perché, come vedete se aprite l'indice il libro è diviso in cinque parti, la prima parte è l'antichità, la seconda parte sono le guerre mondiali e i fascismi, la terza parte è la questione nucleare, l'antinucleare, poi la quarta parte cosa è successo nei paesi dell'est negli ultimi 40 anni e la quinta sul colonialismo, sempre non violenza e colonialismo e razzismo. Sono 101 paragrafi e non 101 episodi, saranno probabilmente 300 episodi perché ci sono dei paragrafi che ne raccolgono parecchi e quindi io sorvolerò su moltissime cose, però il consiglio che do a tutti è leggete l'indice perché dall'indice uno va a vedersi esattamente il tema che gli interessa perché quello si può leggere tranquillamente, ogni paragrafo ha una sua vita a sé e cominciando dall'antichità vedete, state pure sull'indice, questa Acepsut, questa regina d'Egitto che 3500 anni fa ha deciso che non si facevano più guerre, lei era regina perché il faraone aveva due anni e doveva per vent'anni tenerselo a Baglia e ha deciso questo e ha fatto contratti commerciali, in particolare con la Nubia che era il Sudan di adesso con cui l'Egitto era in guerra continua eccetera. Poi leggete, hanno fatto strage di lei, appena morta hanno cancellato la sua faccia, il suo nome eccetera, la sua tomba che è la più bella tomba della Valle dei Re, quella enorme che vedete nelle fotografie, era diventata la tomba di suo padre, hanno cambiato tutto e hanno trovato soltanto tre decenni fa la sua bara che era nascosta nella tomba della sua nurse, della sua bambinaia e per fortuna questi archeologi hanno capito, hanno letto eccetera. Passiamo al primo sciopero, i primi scioperi che sono di 3.000 anni fa e sono gli schiavi egiziani. Questi schiavi egiziani non venivano trattati bene, gli dicevano ti portiamo da mangiare, non glielo portavano, gli facevano lavorare un po' di più di adesso, insomma, non volevano le otto ore, volevano almeno le dodici ore, ne facevano di più. E hanno fatto i primi scioperi e qui si racconta come, tutto questo è stato studiato dai geroglifici, si racconta come nel 1150 a Luxor questi schiavi hanno vinto e hanno ottenuto una serie di regole e anche una specie di sindacato, un difensore. Parliamo di Roma, della plebe romana, tutti quanti sappiamo l'Aventino, l'Aventino eccetera, ma sono stati tre gli Aventini. Il primo nel 495, Menenio Grippa li ha presi in giro, lui ci credeva forse, ma il Senato no, siamo tutti fratelli e invece poi alla fine li hanno chiamati, perché gli facevano fare la guerra i plebei, gli facevano comprare le corazze, gliele facevano pagare, ma gli prestavano i soldi e poi volevano i soldi con l'interesse, quelli che li avevano mandati in guerra. E allora alla fine la cosa non funzionava, perché c'erano trucchi continui per fregargli poi che cosa, non hai l'interesse e ti porto via la terra e diventavano schiavi. Da plebei diventavano schiavi. E questo è successo poi altre due volte, la seconda volta, 50 anni dopo, riescono a farcela, questa volta sono andati sul monte sacro, ma è come un Aventino, e hanno ottenuto il tribuno della plebe, i tribuni, due tribuni che non potevano essere altro che plebei e non patrizi e hanno ottenuto anche, cosa molto importante, le leggi scritte. fino a quel momento, leggi orali, quindi i patrizi facevano le leggi come volevano loro e le cambiavano come volevano loro. Le leggi delle dodici tavole. Qualche volta si studiavano a scuola, ma non ci spiegavano bene il senso di queste cose. La terza volta, 200 anni dopo, 287, non ce la facevano ancora i plebei a far valere i loro diritti e hanno ottenuto con un'altra secessione, un'altra secessione, cioè uno sciopero totale, il plebiscito, che si usa ancora adesso la parola, il plebiscito, plebe, plebiscito, vuol dire che se una legge viene votata dall'assemblea della plebe, vale per tutti, non solo per i plebei e questo è stato il passaggio definitivo. Poi con l'impero le cose sono tornate indietro, nulla è per sempre, sono tutte lotte che a un certo punto hanno bisogno di essere rifatte. Arriviamo ai primi cristiani, stiamo parlando dell'antichità, i primi cristiani sono quelli che dal 180 al 300 d.C. non vogliono fare la guerra e vengono ammazzati. Sono San Massimo, San Maurizio, San Massimiliano, San Vittore, eccetera. Finisce sta storia, ahimè, con Costantino che fa diventare il cristianesimo e religione di Stato e lì è finita la storia, si rovescia, i pazia, eccetera. Chi l'ha visto si rovescia completamente. Però quei 120 anni sono 120 anni fondamentali che hanno lasciato molte tracce nei padri della Chiesa. Alcune di queste tracce di non violenza sono state usate durante il Concilio Vaticano II e nella pace minteris, cioè è stato Papa Giovanni che le ha ripescati più o meno 1500-1700 anni dopo. Arriviamo al Medioevo. Nel Medioevo io tratto molte cose, però voglio segnalarne le due, San Francesco e Federico II. San Francesco nasce 1181, muore nel 1204. San Francesco a un certo punto fa finta di partire per la crociata, invece poi si dà malato due giorni dopo e addirittura regala o vende l'armatura. Poi invece ci va, questo è con la quarta, con la quinta crociata lui ci va e dice voglio parlare io con il sultano e convincerlo a lasciarci libertà di andare a Gerusalemme. Il sultano lo accoglie, lo stima, lo riempie anche di doni e finisce lì. Gerusalemme rimane in mano ai musulmani, la crociata è la quinta crociata, quella che i veneziani hanno usato per depredare Costantinopoli invece che per andare a Gerusalemme e la storia delle crociate non ha fatto nessun passo avanti. Arriva Federico II che nasce qualche anno dopo nel 1194. Era già diventato in quegli anni imperatore, prima re poi imperatore della Germania eccetera e anche poi anche della Sicilia ma insomma a un certo punto i re vogliono che lui e lui promette che vada in crociata ma non ci va. I re, i papi scusate, i papi muoiono, dicono guarda che ti scomunichiamo ma muoiono prima di scomunicarlo a un certo punto riescono a scomunicarlo. Siamo nel 1227, lui fa finta di andare alla crociata e scende da Brindisi, scende a Otranto, si dà malato anche lui e torna a casa. L'anno dopo con la crociata successiva e la sesta, lui da scomunicato parte e va in Egitto. In Egitto c'è il Salamino che comanda sulla Palestina, è in Egitto il sultano che va da lui e parla con lui. Federico II ha argomenti molto forti, ha un sacco di soldi. Fa un contratto. Gerusalemme diventa libera, i cristiani possono andare liberamente a Gerusalemme, cioè alla sesta crociata si ottiene il risultato. Ma c'è un problema. Ottiene il risultato massimo senza sangue degli infedeli e senza bottini. Un'azione che viene dichiarata dalla Chiesa empia. Gli rimane la scomunica, riuscirà in seguito a farla ritirare, ma poi lo scomunicheranno di nuovo nel 1239. Federico II ottiene il risultato senza colpo ferire, fa una bella chiacchierata con il sultano successivo, non era lo stesso di San Francesco, e rimane che c'è la libertà di religione, rimane che i musulmani possono avere le loro moschee e i cristiani hanno anche un itinerario protetto dal mare a Gerusalemme in maniera tale che i predoni o comunque i nemici non devono ammazzare. Finisco qui sul Medievo. Il libro parla di altro, ma non voglio. Arriviamo al 1900, che prende due terzi di questo libro. Scusate, quattro quinti. Prima guerra mondiale. Prima della prima guerra mondiale c'è la figura più importante alla pari di Gandhi della non violenza, è detto Stoi. Stoi perde tutti i suoi lettori perché a un certo punto decide che è più importante la non violenza che non fare bellissimi romanzi. È già il romanziere più grande del mondo, tutti lo conoscono, ma farà anche lui la stessa strada che fa Carlo Cassola, che perde tutti i suoi lettori perché a un certo punto decide che la cosa più importante è la lega del disarmo unilaterale e non la ragazza di Bubba, eccetera, eccetera, eccetera. Entrambi questi scrittori, Tostoi molto più grande di Cassola, ma comunque importante, tra l'altro Alberto ha fatto una ricerca su Cassola, se non sbaglio Alberto. Allora, Tostoi scrive a Ressurrezione, questo è il libro chiave, e nel libro riporto gli elementi suoi, non uccidere, perdonare, amare, non collaborare col male. Non collaborare è l'elemento fondamentale, è il punto su cui si aggancia Gandhi, che lo dice, ha una corrispondenza con Tostoi fortissima ed è il punto fondamentale della nascita della Satyagra Gandiana. Prima Guerra Mondiale, una figura splendida che è stata sempre maltrattata da tutti, destra e sinistra, Rosa Luxemburg, grandissima non violenta, soprattutto antimilitarista. Le cose fatte e scritte prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale da Rosa Luxemburg sono in totale contrasto con la gran parte dei socialisti, socialdemocratici, comunisti, non c'erano ancora i comunisti, insomma quasi, di tutta Europa, che addirittura pubblica e informazione. Grazie! Grazie a tutti. 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 Perché siamo... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come facevi... Grazie a tutti. 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 la prima... Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. tutti. Grazie a 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 tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti.